Benvenuto all'Azio Hotel! Sembra che tu abbia qualche problema qui, hm? Madre de Dios, perché sei qui? Solo per divertirmi! Sono venuto qui perché adoro vedere le anime intraprendenti lottare per realizzare qualcosa e poi fallire miseramente! Proprio come stai facendo tu ora! Ottimo lavoro! Ed ecco Alastor, l'egocentrico penso di merda che... Ah! Io non ci riproverei, mia cara! Questa faccia è stata creata per l'Azio! Ora basta! Non mi importa chi o cosa sei! Se rimani qui dovrai far funzionare le cose perché non sarà così divertente guardare un hotel vuoto, testa di cazzo! Molto bene! Sai che ti dico? Facciamo il patto! Pensi che sia così stupido da fare un accordo con un demone come te? Non per la tua anima, solo un semplice accordo! Io farò questo per te e tu non mi chiederai di utilizzare questa frivola tecnologia televisiva mai più! Altrimenti Charlie non otterrebbe assolutamente nulla! A te la scelta! D'accordo! Molto bene! D'accordo gente! Giriamo una cazzo di pubblicità! A te la scelta! Grazie a tutti.